Ma che bello! Dopo aver parlato con la Croazia ci spostiamo in Svizzera con Mario Gir. Ciao Mario! Ciao Marco! È perfetto perché è un atleta di eccellente livello e soprattutto anche parla l'italiano meglio di me. Quindi sono veramente contento di averti i microfoni di canottaggio video. Il 4 senza pesi leggeri della Svizzera, sicuramente uno dei equipaggi che in questi ultimi anni si è messo in evidenza a livello internazionale. Si è qualificato per le Olimpiadi classificandosi sesto ai mondiali di Bled e adesso qui a Piediluco è sicuramente un test importante per voi. Sì, è un test importante. Vogliamo vedere dove stiamo. La prima regata internazionale è sempre bella perché non si sa dove sia. Se siamo veloci o lenti questo verremo. Siamo contenti di avere dei grandi concorrenti come il vice campione del mondo all'Italia. Ci spieghi un pochino qualcosa del tuo equipaggio, ci descrivi i tuoi compagni di squadra. Che team si è? Siamo un team abbastanza giovani, un team di quattro studenti, cioè medicina, sport, economia e giurisprudenza. Sì, in Svizzera è sempre un po' difficile di cercare un equipaggio che funziona perché ci sono gli atleti, però siccome si allenano tanto in singolo, il feeling per la barca, per le barche grandi, non è che c'è tanto. Perciò sono un po' contento che abbiamo trovato una crew che funziona veramente abbastanza bene di livello internazionale. Poi siamo dei lottatori, come sempre diciamo. La televisione svizzera ci dice sempre i gladiatori della Svizzera perché non ci andiamo mai. Confermo. Mi ricordo soprattutto delle bellissime gare tra il vostro Quattro Senza e il nostro Quattro Senza. Due anni fa in Coppa del Mondo arrivamo avanti noi di un decimo, poi arrivate voi e gli europei avanti di un decimo. Fantastico. Sì, sì, è stata veramente una bellissima gara. Ci abbiamo sempre detto, vabbè, alle Olimpiadi di Londra facciamo il primo e il secondo. Speriamo, vediamo. Incrociamo le dita. Senti, ma come sta le immagini Londra? Ma bellissimo. Ci siamo stati l'anno scorso alla Henley Regatta, il nostro allenatore inglese, perciò è una bellissima cosa che ci siamo qualificati e cerchiamo di dare il massimo. E noi veramente facciamo l'imbocca al lupo al nostro Mario, protagonista con il Quattro Senza Pesideggeri della Svizzera. E come abbiamo detto anche prima, vinca il migliore. Vinca il migliore, grazie. Ciao Marco. Grazie, ciao.